Pronti per tornare a viaggiare? Sgranchiamoci le gambe con le nostre gite di un giorno alla scoperta di due gioielli della Lombardia. Il 12 febbraio vi porteremo a Vigevano alla scoperta del suo splendido centro storico caratterizzato da un castello fortificato e dall'abbazia di Morimondo. Il 5 marzo faremo tappa a Soncino, Borgo famoso per la sua rocca sportesca. Per poi dirigerci alla scoperta delle bellezze di Crema. Prenota subito, restano pochi posti. Ci vediamo in viaggio!